...e ora con il bellissimo Censio! Tutti insieme bellissimo Censio! Forza, forza! Forza, 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 bellissimo Censio! Principessa, Mini, anche voi! Forza! Sai, stangiamoli, stangiamoli! Dite qualcosa! Allora, l'abbiamo preparati per un'altra spirata bellissima come tutti gli anni, un'altra volta sta pioggia... ...la Ponte Maranese! ...la Ponte Maranese, le bani, le strade, purtroppo... ...la Ponte Maranese non si può venire qui direttamente, sperando che sia bello, anche così! Oh, capisci! Sono dispiaciutissimo, perché ci steremo tanto per la Ponte Maranese che girasse per tutte le strade del Paese, però il tempo non ci sta con il tempo, speriamo che sia giusto, così cerchiamo almeno solo noi, Adesso bisogna prendere il gruppo, bisogna prendere un peccetto di questo peccone... ...di chiamo Anita Calibari, sono vissuta per 1860, ho contribuito con Anita Calibari... ...la Ponte Maranese, sono vissuta per il nostro corso... ...la Ponte Maranese, sono vissuta per il nostro corso... ...alora!